Oggi, mercoledì 27 gennaio, 76 anni fa, le truppe sovietiche dell'armata rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz e rivelavano al mondo per la prima volta la realtà del genocidio in tutto il suo orrore. Tantissime le iniziative organizzate in tutto il paese, ma anche nella nostra regione, per non dimenticare. Con la collega Anna Di Giorgio siamo andati nell'ex campo fascista di Casoli, uno dei 15 campi di concentramento abruzzesi. Buongiorno Anna, buon pomeriggio, a te la linea. Sì Fabio, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori del TG8. Prendiamo la linea con la telecamera di Diego Martelli in questo momento da Casoli in questa giornata della memoria. Il 27 gennaio infatti del 1945, 76 anni fa, le truppe sovietiche privano i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz e Birkenau, rivelando al mondo intero quelli che erano stati gli orrori delle stragi nazifasciste. Perché siamo a Casoli? Tra l'altro accanto a noi c'è proprio il sindaco Massimo Tiberini. Perché il comune di Casoli ha ospitato, diciamo così, uno dei 15 campi di internamento, di concentramento, internamento fascista, che avevano il compito di scoraggiare l'opposizione al regime fascista. In questo campo di internamento a Casoli dal 1940 al 1943 transitarono 218 persone, tra 108 ebrei stranieri e 110 oppositori politici dell'ex Jugoslavia. Questo percorso di ricostruzione di questa triste pagina storica è partita a Casoli grazie ad uno studio molto approfondito, portato avanti da un cittadino di Casoli, che è appunto lo storico e studioso Giuseppe Laurentini. Nel 2018 infatti è stata inaugurata qui la Piazza della Memoria, che vedete anche alle nostre spalle con le immagini della telecamera di Diego Martelli. Da qui appunto dicevamo tutto questo percorso che ha fatto sì che Casoli diventasse luogo europeo della memoria. Ma per saperne di più ne parliamo proprio con il sindaco Massimo Tiberini, che ci potrà raccontare anche qualcosa in più circa i lavori che vedete alle nostre spalle, che riguardano il muraglione della memoria che sarà inaugurato ad aprile. Benvenuti a Casoli. Noi qui a Casoli abbiamo voluto raccogliere la responsabilità di tramandare alle nuove generazioni gli accadimenti della storia. Qui a Casoli, nel campo di concentramento per gli internati, abbiamo voluto ripercorrere le gesta di che cosa facevano queste persone qui a Casoli. E dobbiamo ringraziare fortemente il dottor Laurentini, che tra l'altro ha scritto anche un bellissimo libro, L'Ozio Coatto, che rappresentava proprio quello che gli internati facevano qui a Casoli, ovvero sia proprio oziavano. Infatti si differenzia molto tra il campo di concertamento di Auschwitz e di Dachau, perché era un luogo di sterminio, da qui a Casoli, che era un campo di concentramento per internati, come ha ben detto lei poc'anzi. Questo lavoro nasce con la digitalizzazione dell'archivio storico del Comune di Casoli. Quindi circa 4.500 documenti sono online sul sito campocasoli.org, a disposizione di tutti, dell'intero mondo. Veramente c'è un interesse che si evolve sempre di più, sia sotto l'aspetto dei cittadini, ma anche sotto l'aspetto delle scolaresche. E questo ci sta portando veramente un interesse unico di scolaresche di tutta Italia che vogliono venire a Casoli per visitare i luoghi di internamento fascisti. E purtroppo con il Covid non è stato possibile realizzarlo, ma appena il vaccino funzionerà, questo vaccino ci consentirà anche di ospitare tantissime persone qui a Casoli, proprio nei luoghi della memoria. Sindaco, brevemente ricordiamo quali erano gli edifici storici che interessavano, insomma, che racchiudevano questo campo di concentramento. Il campo di concentramento era di tre sedi. L'ex municipio, allora c'era la scuola di avviamento, e il Palazzo Tilli, proprietario con le cantine di Palazzo Tilli, e la dependanza di Palazzo Tilli, che a quel tempo era un luogo di tipo un cinematografo. Ok, grazie allora al sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, questo è davvero in estrema sintesi, sicuramente ritorneremo qui a Casoli in occasione dell'inaugurazione del muraglione della memoria, ma intanto Fabio, se non hai domande da studio, io, Diego Martelli e il sindaco Massimo Tiberini da Casoli, ti restituiamo la linea.